Sono iniziati il lavoro per il rifacimento del manto stradale di alcune strade cittadine. Come detto dalla sindaca Cecilia Francese e dall'assessore ai lavori pubblici Pietro Cerullo, gli operai della ditta hanno intrapreso i lavori, chiudendo al traffico le arterie fino ad ultimazione degli stessi. Le strade interessate sono Via del Centenario, dove i lavori interesseranno la Corsia Nord, Via Pellico e Villario. Lunedì 18 marzo si apriranno i cantieri in Via del Centenario, Corsia Sud e poi in Via Monza, Via Napoli e Via Olevano, oltre che in Via Indipendenza e Via Buozzi. I lavori si protrarranno dalle ore 8 alle ore 18 fino ad ultimazione.